ciao benvenuti a cazzeggio catabiotico ciao benvenuti ad un altro episodio di cazzeggio catabiotico anche questa puntatona dedicata al retrocomputing oggi discuteremo brevemente una retrospettiva dedicata all'apple 2e enhanced ossia migliorato apple 2e fu proposto da apple nel gennaio del 1983 e fu rimosso dalla produzione nel novembre del 1993 la macchina ebbe quindi 10 anni di ciclo di vita di prodotto nel quale è possibile riconoscere tre tipi diversi di apple 2e la release a della scheda madre per apple 2e prodotti solo nel 1983 e la release b dal 1984 in avanti la differenza tra la release a e la release b della scheda madre dell'apple 2e sta nel fatto che la release b dal 1984 c'è la possibilità di sfruttare nel connettore aux un'alta risoluzione sino a 560 per 192 pixel a 16 colori grazie alle tecniche di bank switching mentre nella release a della scheda madre dell'apple 2e non si andava oltre il 280 per 192 pixel a 6 colori ora tutti gli apple 2e prodotti dal 1984 in avanti ebbero ovviamente la scheda madre di tipo b l'apple 2e aveva 7 slot apple boost da 50 ping uno slot aux da 60 ping 64k di ram sulla scheda madre 16k di rom sulla scheda madre era espandibile fino a un mega o anche più a seconda delle schede che vi si potevano mettere ad esempio come quelle della apple ed engineering che spingevano molto sulle tecniche di bank switching portando anche a valori molto superiori a un mega poi l'apple 2e aveva cpu mos 65 c02 ad 1.02 megahertz risoluzione testo 40 per 24 righe oppure 80 per 24 in formato testo risoluzione video bassa risoluzione 40 per 48 pixel a 16 colori oppure in alta risoluzione 560 per cento 92 pixel a 16 colori ecco apple 2e enhanced non aveva circunteria di chip audio e video dedicati come gli aveva invece il commodore 64 la macchina apple 2 differiva dall apple 2 plus per numerose differenti migliori e hardware apple 2 aveva una tastiera completa ossia un font di codice asci con maiuscole minuscole oltre un selettore inferiore che permetteva di switchare la tastiera da qwerty versione inglese col doppio v a qwerty italiana con la z tra la q e la e e la m accanto alla e la accanto accanto alla l accanto alla l accanto alla l perdone le versioni italiane dunque mentre apple 2 plus non aveva minuscole ma aveva solo una tastiera usa di tipo qwerty apple 2 aveva il basic apple soft in rom mentre apple 2 plus doveva caricare apple soft in ram da disco da cassetta apple 2 aveva 64k di un ram già saldati sulla scheda madre mentre apple 2 plus non superava il 48k di ram saldati sulla scheda madre apple 2 poteva essere espanso subito fino a 128k usando appunto il connettore aux mentre apple 2 plus non poteva essere espanso nella ram ma solo successivamente alcune scane di produttori hardware compatibili con apple 2 permisero ad apple 2 plus di espandere la ram apple 2 poteva usare il connettore aux appunto nella scheda 80 colonne per 24 righe mentre apple 2 plus poteva usare solo la modalità test di 40 colonne per 24 righe apple 2 ebbe diciamo prodotti da apple sia un tastierino numerico esterno oppure i joystick apple che appunto potevano essere aggiunti opzionalmente dopo l'acquisto della macchina ecco tale hardware però non era disponibile per apple 2 plus apple 2 e handset ossia migliorato nacque da un'idea del team di sviluppo di apple 2 via guidato da wazia per proporre un home computer ad 8 bit che inglobasse tutti quegli upgrade che il mercato aveva richiesto per apple 2 per apple 2 plus apple 2 dotato di 64k di ram con scheda di espansione da 64k in più ed 80 colonne aveva quindi 128k ed 80 colonne ed era perfettamente compatibile con apple 2c che il piccolo proto portatile aveva 128k di ram sulla scheda madre un disk drive ma la tastiera non era switchabile in italiano solo una qrt con i w nel lontanissimo gennaio del 1988 la apple propose il platinum apple 2 e di fatto era un restyling del case l'apple 2e a cui era stato aggiunto un tastierino numerico oltre ad essere stati inseriti nella scheda madre già una scheda 80 colonne quanto 128k di ram sempre nello stesso anno fu proposto anche da apple apple 2gs upgrade kit per apple 2 per trasformare la motherboard b di apple 2e in apple 2gs ecco di tutti i computer della famiglia apple 2 apple 2e e enhanced fu un best seller il più venduto apple 2 di sempre di tutta la storia trovo infatti apple 2e una buonissima accoglienza nelle scuole americane nelle piccole imprese nelle case e come home computer io mi comprei a 15 anni un apple 2e nel giugno del 1986 perché un mio amico aveva un apple 2c ed aveva una catasta infinita di programmi per apple 2e che mi avrebbe potuto passare gratuitamente la qualità di apple 2e di apple works con i giochi avventure del print shot library tantissimi compiatori ed utilizzi per apple 2e che aveva obiettivamente non erano minimamente comparabili con quello che altri amici con comodore 64 oppure comodore 128 oppure msx avrebbero potuto fornirmi amostrad pc 1512 non mi piaceva come macchina perché non ce l'aveva nessuno e non avrei potuto scambiare programmi con nessuno se non comprandoli da chi li vendeva ma io ecco non ci avevo il danari per comprare programmi mi comprai un apple monitor 2 fosfori verdi apple 2e con 64k di ram motherboard release b con scheda di espansione aux della applet in cimering a 64k con 80 colonne e incluse un solo disk drive da 5,25 neti fondo svuotando tutto l'intero libretto di risparmio in cui ci aveva accumulato i risparmi di un bingo spendendo 1.950.000 lire non avrei potuto comprarmi un apple 2e perché il prezzo veniva a costare oltre i 2 milioni e io non ci avevo danari il venditore però mi fece un robusto sconto appunto sull'apple 2e perché in giugno del 1986 i prezzi di apple 2e ebbero un forte calo già sapevo dell'arrivo della miga mille della commodore che sarebbe arrivato in italia nel 1987 però la miga mille avrebbe sicuramente avuto un prezzo stratosferico molto oltre le mie attuali disponibilità anche quelle future nel 1987 poi mi comprai di seconda mano sempre dallo stesso rivenditore una image writer 1 con scheda super serial card era una stampante nuova che era stata tenuta in vetrina argore a 9 aghi che in realtà aveva due aghi un po' tarabaralla nel senso che a volte funzionavano e a volte non funzionavano comunque stampava sempre a 7 aghi ma sporadicamente per regioni sconosciute riusciva a stampare anche a 9 aghi in ogni caso le stampe a 7 aghi erano perfettamente leggibili tanto quanto quelle a 9 aghi la stampante image writer 1 mandò benissimo per tantissimi anni senza mai darmi alcun problema quando andai all'università iniziai a sbobinare gli appunti usando il word processor di apple works meditai inizialmente nel 1991 di far riparare apple 2 nella tastiera e di comprarmi una ram factor da 1 mega da 629 dollari e mettere in uno slot dell'apple 2 questa espansione in modo tale che avrei potuto andare a 1 mega più 128k ossia 1152k cioè 1.15 mega questa soluzione mi sarebbe costata all'incirca più o meno 629 dollari per 1.2 con l'iva al 20% con un cambio approssimativo di 1900 lire per dollaro circa 1.434.120 lire in alternativa avrei potuto togliere l'espansione ae da 64k e 80 colonne per sostituirla con una apple engineering ram works trade a 1 mega che però già di su aveva 80 colonne io però c'avevo già la scheda 80 colonne quanto 64k di ram di espansione e non mi andava proprio di andare a togliere questa scheda c'erano 100.000 lire di differenza tra le due scelte entrambe puntavano a potenziare apple 2 per allungarne la vita operativa utile essendo appunto io già dotato dalla stampante all'epoca però non avevo danari per far niente quindi procrastinai ogni cosa nel dicembre appunto il 1991 a mia memoria mi incominciarono appunto a partire alcuni tasti della tastiera di apple 2 mi feci riparare mentre l'invento mi costò 180.000 lire iva inclusa uno sproposito che non avrei mai potuto più permettermi dato che dopo un mese poi mi saltarono altri tre tasti visita a parte il computer apple 2 che obiettivamente non era estremamente essenziale per la gestione degli appunti e dello studio e quindi abbandonai completamente l'idea di andare a espandere il mio apple 2 con un'espansione ram works oppure con un'altra soluzione la ram factor dunque nel 1994 poi scoprì che gli apple 2 furono rimossi dalla vendita apple 2 gs non aveva avuto quel successo commerciale che apple sperava e non era stato capace di erginare amica 500 che era uscito nel 1988 ed era dilagato nel 1994 in laboratorio all'università non c'era un apple 2 non c'era un disc drive da 525 non c'era un amica 500 non c'era un amica 1000 non c'era un amica 2000 non c'era un amica 3000 non c'era un amica 600 non c'era un amica 1200 ma c'erano solo apple tantissimi apple macintosh macintosh 2 se 30 classic lc lc2 con dischetti da tre e mezzo stampanti laser apple oppure qualche compatibile pc con windows 3.1 che era in rete con i macintosh ecco non aveva proprio senso spendere uno un milione e quattro di lire oppure un milione e tre di lire per potenziare l'apple 2 con una scheda di espansione quando io con quel prezzo mi sarei potuto comprare un computer nuovo senza problemi hardware molto più potenti con un disco fisso e un disc drive da tre e mezzo con la commodore che nel 1994 era mai fallita non aveva senso comprare un amica 1200 non aveva senso comprare un amica 600 oppure un 2000 che ancora si trovava in italia in negozi italiani nel 1994 con prezzi scontati ma che più o meno non è che erano poi così tanto scontati tanto quanto i prezzi della apple quindi più o meno i prezzi si equiparavano ma in più io mi sarei trovato un commodore quindi una miga 2000 oppure una miga 1200 che sarebbe stata poi una macchina incompatibile con le macchine di università e non ci avrei potuto nemmeno recuperare l'uso della stampante image writer 1 ecco l'unica ditta nel 1994 che ancora produceva un computer era la apple infatti computer pc assemblati o di marca con windows 3.1 i quali sarebbero stati incapaci di gestire il manager writer 1 ecco nel 1994 colsi grossi sconti di apple faceva appunto a tutti gli studenti universitari italiani che presentando il proprio libretto universitario si sarebbe potuto comprare un mac color classic con 4 mega di ram un hard disk interno scasi da 40 mega disk driver 3.5 mouse tastiera in bundle monitor a colori flat sony 3 nitro per 1.660.000 lire iva inclusa al 20% anzi 19 avendo anche un cavetto seriale mac seriale e image writer 1 in regalo per poter sfruttare subito la stampante per appunti tesine e quant'altro questa puntata è tutto un saluto ciao alla prossima ciao 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 ciao